Grande Fratello 2018 Grande Fratello 2018, Maurizio Costanzo umilia Barbara Durso Ecco il motivo Gossip Grande Fratello 2018, Maurizio Costanzo attacca il reality di Barbara Durso. Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua attacca e critica duramente il Grande Fratello 2018 condotto da Barbara Durso. Il giornalista dalle pagine del quotidiano Libero ha usato termini ed espressioni molto forti contro la trasmissione in onda il martedì sera in Prime Time su Canale 5. condotta dalla bislacca del Biscione che la scorsa settimana ha conquistato una media del 27 di Cher. Il durissimo attacco di Maurizio Costanzo contro il Grande Fratello 2018. Il giornalista evidentemente non ha gradito per niente gli ultimi episodi che si sono verificati in queste settimane allinterno della casa del Grande Fratello 2018. Ci riferiamo in primis allo scontro quasi fisico che cè stato tra Ida Nizza Rebai e Dame, durante il quale questultimo ha offeso, umiliato e denigrato la donna al punto da beccarsi una bella squalifica immediata dalla trasmissione di Canale 5. A proposito di questa quindicesima edizione del GF, lex conduttore di Buona Domenica ha scritto, questanno il Grande Fratello si potrebbe chiamare la finestra sulla discarica, aggiungendo poi che chi ha visto e seguito il programma in queste settimane sa benissimo di cosa parla, dato che le polemiche e i tristi episodi di violenza sfociati tra le mura domestiche di Cinecittà hanno fatto il giro del web, dei giornali e della rete. Ecco come Maurizio Costanzo umilia la D'Urso. Insomma termini molto forti nei confronti della trasmissione condotta da Barbara D'Urso, che per prima si è dissociata dal comportamento da bulli che hanno avuto alcuni dei concorrenti di questa edizione allinterno della casa in primis contro le donne. La conduttrice, infatti, la scorsa settimana è apparsa visibilmente furiosa e amareggiata per come fossero andate le cose e ha più volte ribadito di essere delusa dal comportamento dei suoi concorrenti. Ma l'affronto di Maurizio Costanzo non si è limitato al solo grande fratello, visto che in maniera velata il giornalista ha attaccato anche la D'Urso stessa. In che modo? Il giornalista sempre nel suo pezzo apparso su Libero, ha invitato i lettori a non perdersi l'appuntamento con il film evento Aldo Moro, il professore che andrà in onda questo martedì 8 maggio in Prime Time su Rai 1 e dovrà sfidarsi proprio con il grande fratello in onda su Canale 5. Un invito che sicuramente non sarà stato gradito da Barbara D'Urso vista anche l'amicizia di svariati anni che chiede tra i due. .